La sintesi della ventunesima giornata porta in primo piano la vittoria dell'Arezzo nel derby di Monte San Savino. Gli Amaranto pur non giocando benissimo hanno portato via l'intera posta. Crescenzo approfitta di un gentile regalo di Esposito e porta in vantaggio la sua formazione che replica con questa stilettata di Sisse. La San Savino si rianima con Coccima, prima Rubecchini su punizione e nel finale Martinez completano il tabellino dell'Arezzo. Il derby di Fernate si chiude in parità, Gaggioli segna la rete dell'Ex e porta in vantaggio il Trestina. Il gruppo torna in quota con una magia del solito Marinelli nella ripresa. Torna a vincere il Sansepolcro che piega un indomito Zagarolo. Vantaggio con la Cava, bravo a mettere in rete un delizioso pallone di Rovella. Replica dei laziali con Carlini ma nel finale ancora la Cava chiude i giochi con questa bella girata su angolo di Gorini. Successo del deruta, spese della Ponte Vecchio, decide in apertura di ripresa Regnicoli. I Rossoverdi sprecano un penalty con Gramaccia. Orvietana travolta dal Castellerigone che segna con Tranchitella. Il pareggio è di Calcagno ma Gostinelli riporta in vantaggio i lacustri. Caligiuri si inventa il pareggio per l'Orvietana. Poi dal dischetto Tranchitella riporta in quota la formazione di Mezzanotti che firma il poker con Agostini. Botta in risposta in Spoleto Todi. Due rigori fissano la partita. Prima Gammaidoni per i padroni di casa e poi nel finale Tarpani. Va in rete. In chiusura la Pianese legittima il suo bel campionato battendo la Viterbese. Passa in vantaggio la squadra di Bacci con Cercosimo. E prima del triplice fischio è Pereira a fissare il risultato sul 2-0.